Dire grande partecipazione è una banalità, però questa città davvero dà sempre il meglio di sé quando si parla di Calcit. È vero, il Calcit è l'associazione che unisce la città, tutti ci sentiamo appartenenti a questa associazione e ovviamente ora siamo qui a passeggiare con il dottor Bracarda e si sottolinea questa cosa che non è facilmente riscontrabile in altri posti. Per voi sarà banale, ma per me è veramente impressionante il calore e la partecipazione che ha questa città verso il Calcit e verso quello che noi facciamo. Devo dire che è un lavoro duro, ma farlo con una città dietro fa la differenza. Io credo di aver fatto tante cose, ma le ho fatte con sincerità e con impegno proprio perché si vede il risultato in termini di partecipazione, di voglia di fare veramente la qualità, che è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni. I risultati ci sono anche in termini economici perché il contributo del Calcit all'azienda sanitaria è stato importante dal punto di vista anche dell'acquisto dei macchinari e del servizio scudo che comunque lavora su un altro fronte altrettanto importante. Non è soltanto però la PET-TAC, non è soltanto la robotica, non è soltanto lo scuro, perché poi il Calcit distribuisce rivoli di risorse che servono a fortare qualità praticamente in quasi tutti i reparti dell'ospedale. Recentemente ne abbiamo parlato, ci sono tante iniziative, di qui vedrete i risultati anche nel corso del prossimo anno, dei prossimi anni, perché poi ci sono cose che sono quotidianamente visibili, altre che sono partite da poco e da altre. Se io dovessi dire che cosa si potrebbe fare senza il Calcit, la mia risposta sarebbe veramente poco, perché sapete benissimo che la sanità di qualità costa, si ottengono dei risultati ma senza fondi non si può fare niente, ma a volte anche con i fondi non si riesce a fare nulla, quindi ci vogliono idee chiare, con partecipazione e una programmazione fatta di concerto con il Calcit e ribadisco, fatta con il Calcit significa farla con la città e con la provincia di Arezzo. Come sempre la voce del Calcit è il nostro Carlo Benucci, oggi il microfono ce l'ho io, l'intervistato sei te, quindi siamo ruoli ribaltati, sta andando molto bene Carlo. Veramente sta andando alla grande, particolarmente questo gazebo dove c'è la pesca gigante, la facciamo con tutti i regali dati da tutte queste ditte che magari le menzioniamo via via che consegniamo i regali, però praticamente non figurano qui in piazza, però tutta la città è mobilitata in questa giornata, ma poi un po' tutto l'anno perché vediamo le manifestazioni non si riducono soltanto al mercatino, ma per dire è il 29 maggio e qui spendo una parola perché chiaramente ci sarà un'altra bella manifestazione, le band in concerto, le magnifiche band degli anni 60 e 70 che si esibiranno con la preziosa presenza di un personaggio veramente importante al teatro Tenda, quindi tutto ricavato dal calcite. Quindi qualsiasi manifestazione come finalità c'è un qualcosa rivolto al calcite che poi calcite, Arezzo Calcite è la nostra città, Calcite è quello che ha fatto in 36 anni e quello che sta facendo ora, considerato che il servizio scudo, acronimo di cure domiciliari ai malati oncologici, costa il calcite 280 mila euro l'anno e quindi in ogni modo, in ogni maniera gli aretini sono sensibili perché il servizio scudo è un servizio efficace, efficiente e veramente il fiore all'occhiello della nostra città.